Scrivi, notta, pensa, crea, spera, perché lo fai? Sogna, aspetta, battiti, ingoia, pazienta, perché lo fai? Vinci, perdi, lascia, pareggia, abbandona, perché lo fai? Perché fai tutto questo? Per i soldi, il successo, la fama, il sesso, per te stesso, perché lo fai? Per inerzia, per i tuoi, per gli amici, per forza o per abitudine? Perché lo fai? Perché fai tutto questo? Per non buttare le tue capacità o per chi credeva che non ne avessi? Per una, alcune, tutte o nessuna, di queste ragioni, perché? 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 È una domanda difficile, vero? Pensaci Hai tempo Scava dentro di te Hai trovato una risposta? No, non ancora Io sì Io lo so perché lo faccio Perché quando Marco schiaccia il pulsante e si accende la luce rossa Si apre un mondo dentro di me Un mondo senza barriere Un mondo senza confini Un mondo libero Un mondo libero E puoi entrarci in un attimo, così Senza fatica Senza sforzo Senza password Senza vergogna Basta Ascoltare Lo zoo di 105 Un mondo a parte Gratis Oh ragazzi, a proposito Chi mi paga sto promo? Sono 500 in fattura Ma vaffanculo!